Due giorni di workshop, 17 ore di presentazioni e interlocuzioni, otto sessioni sulla componente spazio del programma Copernicus, sulla componente servizi e sullo sviluppo delle applicazioni, circa 130 partecipanti su De Giorni. Abbiamo dato voce sia al mondo aerospaziale per illustrare lo stato dell'arte delle tecnologie satellitari, sia al mondo degli utenti per esprimere i loro reali fabbisogni, evidenziando le difficoltà da affrontare per sviluppare servizi. Sat Tech Foreo ha voluto coinvolgere la comunità industriale, istituzionale e di ricerca in un forum comune per condividere la conoscenza del programma Copernicus. In questi due giorni si è cercato di dar vita a un confronto tra le capacità produttive del nostro Paese e le esigenze sia del mercato che della ricerca scientifica. Per citare uno slogan del programma Copernicus, abbiamo cercato di capire come osservare il nostro pianeta e i cambiamenti ambientali a beneficio di tutti i cittadini europei.